Serata di duetti a Sanremo e noi abbiamo un meraviglioso duetto, Emma e Bresch. Buongiorno, buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, raccontateci subito, manca poco e poi sul palco per questa performance particolare. Vai Emma, sei te l'artista principale. No, ma stai sei il super guest, vai, raccontalo tu. Non è vero, non è vero. No, cos'è successo? È successo che in maniera molto naturale, perché ci siamo beccati quest'estate, no? Siamo conosciuti e Emma mi ha chiesto, ho ricevuto questa proposta di fare questo duetto e appunto felicemente ho accettato e ci siamo trovati qua oggi a fare queste interviste, a fare questo duetto che a parte di scherzi ci gasa veramente tanto, a me gasa tantissimo, infatti non vedo l'ora, c'è un po' di ansietta, però è giusta, quella giusta. Sì, sì, confermo, confermo. Lo stimavo già come artista, però devo dire che poi avendo avuto a che fare con lui, perché abbiamo provato veramente con i pazzi tutti i giorni, ho scoperto anche un ragazzo incredibile, un animo nobile, una brava persona, un bravo ragazzo. Grazie, grazie. Io questo non ho bisogno di dirlo perché si vede già, conoscete già Emma, Emma è così come la vedete da fuori e quindi la stima umana è sottointesa. Invece la stima musicale cosa ti piace di Emma? Emma ha una grinta che hanno in pochi. Mi ricordo un episodio quando eravamo a Roma in una sala giochi, ti ricordi? Sì. E cantavamo Battisti, non so, lei è uscita, io ero davanti, non mi ricordo, ho sentito dietro qualcuno che canta Battisti, no? Ed era lei e quindi mi sono già detto, cavolo che onore, no? Perché era proprio bello sentirlo cantare dal vivo, anche solamente che non uscio dalla porta. E quindi proprio questo, c'è la naturalità e la grinta, lo stomaco. L'idea del medale di Tiziano Ferro? Perché siamo tutti fan di Tiziano. Siamo fan di Tiziano. Tutti. E quindi volevamo omaggiare un grande artista, un grande amico, perché le canzoni spaccano, raga. È quello, è quello. E poi è una specie di un'immortalità, no? Ha preso tante generazioni Tiziano, ha portato un genere fresco ai tempi che pure oggi si può definire tale. E quindi è un piacere. Quanto è importante la musica oggi per tutti? La musica oggi, come ogni forma d'arte, è fondamentale. Io sono un'inguaribile romantica, CIT, e credo ancora che l'arte e la bellezza possano aiutarci tutti quanti a uscire dalle situazioni orrende che purtroppo il mondo e la nostra società ogni giorno ci mettono davanti agli occhi. Quindi con la musica si possono trasmettere tante cose e anche tanti pensieri importanti rivolti al prossimo. Esatto, la musica ti consola, non sai come, perché, quando, ma lo fa. Quindi nei momenti di sconforto c'è, nei momenti belli c'è, clamorosamente c'è sempre e quindi viva la musica. Immagino tu abbia ascoltato il brano che Emma ha portato a Sanremo, il tuo giudizio. Spacca, spacca tantissimo, mi piace tantissimo, linee melodiche pazzesche. E io l'ho detto già la prima volta che abbiamo ascoltato, che abbiamo fatto il medley in studio. E quindi niente, spaccherà tutto, per forza. Allora, noi abbiamo due ragazzi che veramente spaccheranno tutto questa sera sul palco del Teatro Ariston. Noi vi vogliamo bene ragazzi, vi vogliamo veramente bene. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Anche noi.